La Regione ha pubblicato il bando per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa. I finanziamenti concessi ai cittadini che ne facciano domanda per interventi su tutto il territorio regionale consistono nella concessione di un mutuo da parte di due istituti di credito, Banco di Sardegna e Banca Intesa San Paolo. L'importo di mutuo agevolato, che non può superare i 120.000 euro, ha una durata tra i 30 e i 10 anni e viene ammortizzato mediante il pagamento di rate semestrali. Si tratta di mutui a tasso fisso o variabile. Può presentare la domanda solamente uno dei coniugi o una delle parti dell'Unione Civile o il convivente Moriuxorio. Può inoltre presentare domanda un altro componente del nucleo familiare che sia maggiorenne e non ha carico di altri ai fini fiscali. Le giovani copie non ancora coniugate, unite civilmente, devono contare il matrimonio o costituire l'Unione Civile entro un anno dalla data di presentazione della domanda alla Regione. Il bando è stato approntato rispettando le nuove direttive approvate dalla Regione nel mese di marzo con l'obiettivo di garantire condizioni più favorevoli per i cittadini dopo la recessione delle convenzioni in atto nel dicembre precedente. Tre le caratteristiche nuove del bando spiega la nota della Regione. Il fatto è che sarà riaperto ogni sei mesi in modo da consentire agli istituti bancari che volessero inserirsi di farlo al fine di ampliare l'offerta a favore dei cittadini. Le banche saranno obbligate ad accettare la richiesta di rinegoziazione dei mutui da parte del cliente. Terzo aspetto legato al precedente, il cliente ha il diritto alla rinegoziazione purché ne faccia richiesta almeno ogni cinque anni.